La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza con il coordinamento della procura distrettuale antimafia presso il Tribunale di Napoli hanno condotto una vasta attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio e in provincia di Caserta. Gli uomini della squadra mobile di Napoli e del gruppo Fiumicino della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di numerosi soggetti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Sono complessivamente 10 gli indagati arrestati, 5 in carcere e 5 ai domiciliari. Un sottogruppo della sesta organizzazione in stretto contatto con la principale operava anche nella provincia di Napoli, precisamente a Pomigliano d'Arco. Gli indagati si occupavano prevalentemente di trasferire ascisce e marijuana ma le forze dell'ordine hanno sequestrato anche cocaina. Si servivano di auto con doppi fondi per spostare la sostanza ma anche di mezzi pesanti come tir. Nel corso dell'indagine infatti è stato intercettato un carico in un tiro con un doppio fondo sotto il cassone che si apriva solo con un sistema idraulico. Alla fine si è dovuto segare il cassone in due con le smerigliatrici per trovare la droga 5 chili di marijuana. Sempre durante le indagini all'interno di un intercapedine, nell'abitazione di alcuni incensurati ad Acerra, vennero sequestrati 7 chili di cocaina e un chilo di hashish.